Sono indietro in corsa di 30 pip, devo assolutamente contenere lo straggler avversario, l'ultima pedina arretrata, che se riuscisse a raggiungere il resto delle pedine mi porterebbe a dover passare il cubo dell'avversario. Vediamo come ho ragionato in partita. Non sono stato molto eloquente. Vediamo di ragionare un po' meglio adesso. Ho un ancora sul golden point con 4 pedine, che sono tantissime, mentre invece per contenere la pedina avversaria mi servono più pedine di quelle due che ho. Inoltre la mossa che ho giocato mi espone al 6264, per cui vengo colpito, ma dalla pedina in uscita, per cui guadagna un tempo fondamentale per portare in salvo la pedina. è invece importantissimo portare avanti una pedina dal golden anche a rischio di essere colpito. In quanto se anche vengo colpito comunque sono tanto in ritardo in corsa che non è un grosso problema. Ed inoltre ho ragionevolmente 6 tiri che colpiscono dal bar. infine sto duplicando il 2 perché se lui utilizza il 2 per colpirmi non può giocare 24-22 che è fondamentale per portare avanti, per portare in sicurezza lo straggler. Quindi sostanzialmente è importantissimo portare una ulteriore pedina per controllare l'outfield. E questa è un'ottima occasione. Certo sarebbe stato meglio tirare un 4-5, cioè portarla direttamente al sicuro, ma qui non posso assolutamente aspettare. Vediamo cosa dice XG. Infatti vedete che la mossa che ho giocato è un blunder da oltre 250.